La Nuova Pescara, il presidente della Commissione Finanze del Senato, Luciano D'Alfonso, oggi ha fatto il punto sulle iniziative da intraprendere per avviare e condurre nei tempi giusti il cantiere della Nuova Pescara, dopo l'approvazione all'unanimità venuta lunedì scorso in Senato nelle commissioni riunite dell'emendamento presentato dallo stesso senatore D'Alfonso al cosiddetto Decreto Ucraina Bis numero 21 del 21 marzo 2022 in corso di conversione in legge. D'Alfonso ha ricordato che l'emendamento produrrà il doppio effetto di destinare al progetto di fusione di Pescara Montesilvano e Spoltore 5 milioni di euro nella 2023 e 10 milioni di euro all'anno nei successivi 10 anni per un totale di 105 milioni. Alla conferenza hanno partecipato Carlo Costantini, promotore del referendum, componente dell'Associazione Nuova Pescara e consigliere comunale, il vice sindaco di Montesilvano Paolo Cilli, il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore Lucio Matricciani, Ennio Fidanza, presidente della Commissione Statuto, Marco Camplone, presidente dell'Associazione Nuova Pescara e il consigliere comunale Claudio Croce. D'Alfonso 105 milioni per questo progetto, ora però il cantiere deve assolutamente partire. Necessario perché mettiamo in campo la prima mossa e poi le dieci mosse che sono propedeutiche alla vita di questa città nuova. Entro giugno avremo un'altra norma che facilita la composizione degli organi collegiali, la partecipazione dei consiglieri comunali eletti nelle realtà precedenti. Avremo piante organiche funzionali e poi una nuova pianta organica della nuova città. Eventualmente quali sono i pericoli da scongiurare? Ma quello che io chiamo il pericolo di Vanna Marchi o quello che coincide con l'atteggiamento di Gian Burrasca, qui non si tratta né di rinviare per rinviare come gli studenti che non studiano mai, né di ingannare come avrebbe fatto una commercializzazione del processo che non corrisponde alla verità. Questa è una scommessa per fare in modo che la città nuova dia più opportunità, più modernità, più comodità, più capacità di funzionare rispetto ai progetti di vita delle persone e delle imprese. Tutti d'accordo però, per esempio Spoltore dice che non bisogna avere fretta, Montesilvano le tempistiche vanno riviste. Secondo me c'è un punto di cucitura. Intanto cominciamo a indossare la tuta del lavoro. Lo statuto si può chiudere nell'arco di un tempo prestabilito, una nuova pianta organica, un piano di specializzazione di funzioni e un piano di specializzazione dei tre territori in maniera tale che nessuno poi sia condannato a fare confronti tra passato e presente arrivando a dire che forse nel passato, dentro la tradizione, c'era più qualità. Le risorse finanziarie sono arrivate, arriveranno anche quelle del PNRR e anche quelle del nuovo FSC. Adesso serve una grande stagione di idee.